Cosa vuol dire a me? Un metro e mezzo di struttura, per me da gli occhi e le battute della gente, ho la curiosità di una ragazza liberente, che mi avvicina solo per un suo tempo più pertinente, vuole scoprirse il vero quanto si dice una noi nani. E siano i più forniti della virtù, meno apparente, tra tutte le virtù, la più leggerente. Passano gli anni e mesi, esseri continuano i minuti, potreste provare a sentire senza essere cresciuti. La maldicenza esiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che una no è una caroglia di sicuro, perché hai il cuore troppo, troppo vicino al lungo del lungo. La maldicenza esiste, batte la lingua sul tamburo. 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 Grazie.